Il Consiglio Nazionale Ingegneri è un'organizzazione, se posso utilizzare questo termine, molto datata. In Precostituzione siamo stati istituiti nel 1923. Quello che però è veramente fondamentale è il supporto che noi possiamo dare, oltre nel termine di tutela dell'utente finale, anche nei confronti della pubblica amministrazione, perché attraverso i nostri iscritti noi siamo disponibili per poter elaborare progetti, supportare le attività, ma soprattutto per essere anche da dissurga a quelle che sono le attività che normalmente svolge la pubblica amministrazione. Abbiamo avuto l'opportunità di conoscere Aruba e quando abbiamo conosciuto Aruba, sebbene con procedura pubblica, siamo riusciti ad individuarla come nostro partner. è un partner per noi molto importante, anche perché ci ha permesso di caratterizzare, rendere riconoscibili tutti i nostri iscritti. Per quanto riguarda il Consiglio Nazionale Ingegneri, Aruba ha messo a disposizione una serie di servizi che sono veramente importanti, che vanno dalla fatturazione elettronica, dall'identità digitale, cioè sono tutti quegli elementi che ci consentono di operare in una società come quella di oggi, dove la velocità, ma soprattutto la certificazione, è un elemento essenziale, che in particolare anche con l'Enterprise noi riusciamo ad avere delle interlocuzioni dirette, trovando sempre degli interlocutori che forniscono le risposte ai quesiti che gli vengono posti. E in una società come quella attuale, dove avere un qualcuno che riesce a darti una risposta alla tua necessità, è elemento essenziale. Oggi, dal nostro punto di vista, non è soltanto il costo di un servizio, ma le modalità con cui un servizio viene spettato. E per quanto è dato a noi sapere, anche sui riscontri sul territoriale, abbiamo dei riscontri che ci portano a dire che Aruba in questo momento sta collaborando con noi in un modo veramente costruttivo e disponibile per ascoltare le esigenze degli iscritti. Non abbiamo avuto criticità con Aruba in merito alla nostra sicurezza, anche perché nell'epoca in cui viviamo la vera ricchezza di ogni singola persona sono i propri dati, la propria firma digitale e tutto quello che è connesso con il materiale. L'ordine degli ingegneri attraverso i suoi ordini territoriali ha circa 240 mila iscritti e l'aspetto veramente importante è che come Consiglio nazionale stiamo fornendo a tutti i nostri iscritti una PEC, una PEC che ha un'estensione unica, che ha il nome e cognome, il numero ordinale, se sono più di un collega con lo stesso nome, chiocciola ingipec.io. E anche questo è stato possibile grazie all'unità lungimiranza che ha avuto negli anni antecedenti il Consiglio nazionale, andando a stipulare delle convenzioni per avere un dominio dedicato e anche qui a UBA ha contribuito in modo importante per supportarci in questa attività. Operare in una società ricca di valore aggiunto, quale può essere la società UBA per la quale noi ci avvaliamo, sicuramente anche l'attività professionale può risultare agevolata con benefici per quanto riguarda la produttività e lo stile di vita del professionista che non deve dedicare i suoi pensieri anche ad azioni o operazioni che sono non propri della a conoscenza di ingegneria.